Buonasera e bentornati. Siamo giunti alla nona serata dedicata alla storia di Terre del Reno. Come al solito richiamiamo brevemente quanto abbiamo visto la scorsa serata. Dopo la disastrosa rotta del 1751 alla Panfiglia e vari infruttuosi tentativi, finalmente, grazie al progetto Lecchi Boncompagni del 1782, i torrenti appenninici sono raccolti nel canale della Botte e il Reno è inalveato nel cavo benedettino. Questo si immetteva nel vecchio letto del Po di Premaro che arrivava da Ferrara che appare in prossimità del bordo superiore della mappa. Qui si è staccato dal Po di Volano in cui, come sappiamo, i ferraresi convogliono tutta la portata proveniente da Monte al fine di permetterne la navigazione che per loro è vitale. Il Primaro è così ridotto alla funzione di scolo delle acque meteoriche. Dalla confluenza del cavo benedettino con il Po di Primaro il Reno continua verso il mare utilizzando per lo più il letto di quest'ultimo, salvo in alcuni lunghi tratti, detti drizzani, in cui è stato rettificato. In giallo vedete l'antico alveo di Primaro, in blu il tracciato del Reno. Abbiamo visto infine come gli Aldovrandi si fossero sempre più indebitati per la realizzazione di ville suntuose. L'ostentazione di un lusso sfrenato, tanto da dover chiedere prestiti persino per procurarsi gli abiti da lutto. Si giunse così nel 1803 alla vendita delle tenute di Mirabello, Raveda e San Venanzio. Le spese scriteriate per il decoro non erano una prerogativa dei soli Aldovrandi, ma erano ampiamente praticate da tutta la classe aristocratica senatoria. 50 famiglie circa, che possedevano il 70% delle terre della pianura bolognese e non si interessavano di esse. Il numero dei poveri e dei mendicanti, nutriti a spese degli enti di beneficenza, era enormemente cresciuto. Verso il 1790 se ne contavano 400.000, su una popolazione complessiva degli stati pontifici di 2 milioni e 300 mila abitanti. Il governo poteva mantenere tranquilla la popolazione solo con un'estesa politica caritativa, ma a lungo andare questa non fece che aggravare la crisi, perché indeboliva ulteriormente la già debole struttura produttiva e minacciava sempre più di portare il governo a una catastrofe finanziaria. E la catastrofe arrivò nel 1796, quando Pio VI esaurì completamente l'erario. La rivoluzione era già scoppiata in Francia nel 1789 e in quello stesso anno la sua onda arrivò in Italia. Il cambiamento si materializzò infine. Il 19 giugno 1796 Napoleone entrò a Bologna e dichiarò decaduto il governo pontificio. I poteri vennero provvisoriamente restituiti al Senato, ma sotto giuramento di fedeltà alla neonata Repubblica Cispadana, con capitale Bologna. Ma la Repubblica Cispadana durò poco. Durò solo pochi mesi. Nel luglio del 1797 venne assorbita nella Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. I pochi anni della dominazione napoleonica lasciarono un segno profondo nel Bolognese, come in gran parte dell'Europa di allora. L'ordinamento antico, fortemente conservatore e detenuto dalla nobiltà e dal clero, fu completamente sovvertito, aprendo le porte alla crescita sociale ed economica della borghesia e ai nuovi venti di eguaglianza sociale e di modernità. Fenomeni complessi che furono rallentati ma non sopiti dalla restaurazione seguita al congresso di Vienna del 1815. Ma lasciamo la grande storia per tornare a noi e al Reno. Questa carta, che abbiamo già utilizzata alla fine della scorsa serata e vista nel precedente riassunto, è stata redatta nei primi anni dell'Ottocento. Essa mostra che il progetto Lecchi Boncompagni sembra aver raggiunto il suo scopo. Il Reno appare finalmente inalveato e le valli, le aree grigie, sono enormemente ridotte. Tuttavia, nelle grandi pieni gli argini del Reno erano sottoposti a enormi sforzi e a volte cedevano. Il loro repristino era costoso. Inoltre, l'innalzamento del fondo del fiume avveniva più rapidamente di quanto era stato previsto dal Lecchi e ci si attendeva quindi che gli argini avrebbero dovuto essere sopralevati prima del previsto, il che avrebbe comportato un'ulteriore spesa. Ma le casse del Dipartimento del Reno, come allora era chiamata la provincia di Bologna, erano esauste. Il debito contratto per i lavori ammontava 17 milioni di lire, una cifra enorme, 17 volte il valore delle tenute di Mirabello, Ravede e San Venanzo cedute dagli Aldovrandi, pari a circa 600 milioni di euro attuali. Per questo, all'inizio dell'Ottocento, l'idea di connettere il Reno con il Po Grande tramite un canale tornò di attualità. Ovviamente non più per deviare tutto il Reno in Po, come si era pensata ai tempi del Cassini, ma solo per alleggerirlo durante le Grande Piene di una parte significativa della sua portata. L'occasione per proporre il progetto si presentò nel 1805, quando il 21 giugno Napoleone, che il 17 marzo era stato incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano, visitò Bologna. In quell'occasione Antonio Aldini, il segretario del Regno, un bolognese, organizzò un incontro tra Napoleone e una commissione, appositamente costituita, composta dai migliori draulici italiani, che illustrarono al Bonaparte i problemi del Reno e le diverse alternative per risolverli. La relazione della seduta riporta che Napoleone ascoltò attentamente, fece alcune domande e poi così concluse. Signori, io ho già deciso. Il Reno sarà immesso nel Po. Domani iniziano i lavori. La seduta è tolta. Mito di Napoleone o realtà? Ma che l'abbia davvero detto o no, poco importa. Il fatto certo è che il giorno dopo firmò il decreto, preparato dall'Aldini, che liquidava il debito contratto dal Dipartimento del Reno mettendo la carica del Tesoro Reale e ordinava la realizzazione del progetto ideato dal Cassini nel 1660. Ricordate, ne abbiamo parlato tre sere fa nella sesta serata, con la sola modifica del punto di partenza, la Panfiglia, invece di Mirabello. Riprendiamo la carta e ingrandiamo la nostra zona. Precisamente il cava doveva partire dalla rotta della Panfiglia per raggiungere Palantone sulla riva del Po Grande. I lavori iniziarono effettivamente nel 1805 e l'impresa fu condotta con grande alegrità. Per presto però le continue guerre ridussero le disponibilità finanziarie del governo napoleonico e i fondi destinati al progetto furono in parte distratti. Per i duri costi nel 1807 il punto terminale fu spostato da Palantone alla curva del Panaro presso Bondeno. I lavori subirono un ulteriore rallentamento durante la campagna di Russia e furono definitivamente sospesi e abbandonati nel 1814 con la caduta di Napoleone. Al Rosa Spina, il più grande incisore italiano del tempo, era stato affidato l'incarico di redigere una carta che illustrasse, con magnificenza imperiale, il progetto. Essa richiese anni di lavoro e fu pronta solo nel 1816, quando Napoleone era ormai prigioniera a Sant'Elena e il congresso di Vienna era in corso. Ovviamente non fu diffusa, ma la lastra rimase nei depositi dell'Accademia di Brera a Milano e fu stampata solo molti decenni dopo. E la carta che vedete e che abbiamo a lungo analizzato è un vero capolavoro sia per quanto concerne la qualità del rilievo, ma anche e soprattutto per quella del disegno e dell'incisione. Una carta degna di un imperatore. Vediamo meglio la variazione imposta al progetto nel 1807. Il cavo inizia alla panfiglia, seguendo l'antico alveo di Reno, sino all'altezza di Sant'Agostino. Dove Reno svolta, prosegue dritto, per piegare leggermente a sinistra, un poco più avanti, per raggiungere l'ansa del panaro a Bondeno. Da qui l'acqua sarebbe scesa seguendo l'alveo del panaro sino al Po. Come abbiamo visto, il progetto originario, invece, puntava direttamente al Po come suggerito dal Cassini. Nel 1807, quando il progetto fu modificato, si accese un dibattito che vide un insigne matematico e idraulico, Teodoro Bonati di Bondeno, sostenere la scarsa utilità di immettere le acque del cavo nel fiume Panaro, vista la frequentissima concomitanza delle piene dei due corsi d'acqua. «Si sarebbe riempito lo stesso bicchiere», affermò. «Ricordatevi quest'uomo e questa frase, sortirà il suo effetto». Posizioniamo questi eventi sulla linea del tempo. Il progetto e l'inizio dei lavori del cavo è del 1805. I lavori iniziano rapidamente, poi rallentano e sono abbandonati nel 1814. Una breve nota su un piccolo effetto delle campagne napoleoniche a Mirabello. La scorsa serata abbiamo visto che nel 1745, restaurando il suo palazzo, il cardinale Pompeo Aldovrandi lo dotò di un campanile a vela, in cui inserì una campana con cui l'orologio batteva le ore. Nel 1797, durante la prima campagna d'Italia, le truppe di Napoleone la requisirono per fonderne il bronzo e farne cannone. Dallora il campanile di palazzo rimase senza campana e senza orologio. Solo nel restauro del 2009 una nuova campana e un nuovo orologio hanno riportato in vita quante il cardinale aveva voluto e la guerra distrutto. Prima di continuare devo fare una precisazione importante. Mi spiace e me ne scuso, ma per necessità da qui in avanti parlerò per lo più di quanto accadde alla terra degli Aldovrandi, le due tenute di Mirabello e Ravida, che il cardinale chiamava l'impresa. La ragione è che il professor Rinaldi, a cui studi ho ampiamente attinto nella realizzazione del museo e di queste serate, ha concentrato le sue trentennali ricerche solo su di esse. Le terre di Sant'Agostino hanno certamente una storia simile, ma purtroppo non la conosco. I grandi cambiamenti di regime portano speranze e volti nuovi, ma sono anche il momento propizio per i furbi e per gli arrempicatori. Anche all'ombra del potere napoleonico fiorirono gli avventurieri e gli approfittatori. Nel 1803, come abbiamo visto alla fine della scorsa serata e ricordato poco fa, Carlo Filippo, bisnipote del cardinale Aldovrandi, vende le proprietà di Mirabello, Ravida e San Venanzo al cittadino Rovatti. Per persona da nominare. Rovatti è solo un prestanome. A vendita conclusa, dietro di lui emerge un furbo finanziere, il cittadino Zucchini. Il fatto che si mantenesse nascosto dietro il Rovatti sino ad acquisto completato rivela che lo Zucchini era conscio di essere qualcuno con cui molti non desideravano avere a che fare. Ho deciso di dedicarvi qualche minuto perché, pur essendo sia lui che il Milzetti, un personaggio in cui ci imbatteremo tra poco, molto marginali nella storia di Mirabello, sono però interessanti esempi della fauna umana che compare, soprattutto nei periodi di transizione di regime. Per rifarci ai nostri tempi, penso ad esempio alla caduta dello Shah in Persia e alla fine dell'Unione Sovietica in Russia. Lo Zucchini acquista tre tenute, Mirabello, Ravida e San Venanzo. Per complessivi 1.282 ettari al prezzo di 970.000 lire bolognesi di argento, in media quindi 757 lire per l'ettaro. Tenendo conto che oggi quei terreni valgono circa 27.000 euro all'ettaro, l'intero acquisto si realizza per circa 35 milioni di euro. Ma come si fa a pagare cifre così elevate in un momento in cui i soldi non ci sono? Ci vuole un creativo della finanza e Zucchini lo è davvero. Guardate, il pagamento ha una forma per noi molto singolare. 18.500 lire in acconto, 45.000 lire in tre rate annuali da 15.000 lire a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto. Si accolla poi i debiti dell'Aldovrandi per complessivi 256.000 lire e si impegna a pagare le restanti 650.000 lire in 13 rate annuali che verranno pagate a partire dal 1823, cioè vent'anni dopo la firma del contratto. Nel frattempo corrisponderà a un interesse annuo del 5%, cioè 32.500 lire all'anno. Insomma, con un esborso immediato di 18.500 lire, lo Zucchini si ritrova proprietario a pieno titolo di terreni che valgono 970.000 lire. Il resto del pagamento è rimandato a un futuro più o meno lontano. Per meglio afferrare il senso, traduciamo in euro. Con 600.000 lire in contanti diviene dominus di una proprietà che vale 35 milioni di euro. Non male come colpo. Vi chiederete perché l'Aldovrandi accetti. Innanzitutto non ha alternativa, è in seguito dai debitori. Ma poi, visto dal suo punto di vista, la vendita non è mica male. Guardiamole in valori attuali. Si libera di tutti i suoi debiti 9 milioni di euro, incassa 600.000 euro subito e 1,6 milioni di euro all'anno nei primi tre anni e si assicura una bella rendita 1,2 milioni di euro all'anno per i successivi venti. Successivamente andrà ancora meglio. 1,8 milioni di euro all'anno per 13 anni a partire dal 1823. E prima di allora sarà sicuramente morto. Morerà infatti vent'anni dopo nel 1823. Insomma, con questo atto l'Aldovrandi ha sistemato la sua vita. Per uno che non sa come tirare avanti è un ottimo affare. Ma lo zucchini mira molto più in alto. Non gli basta rinviare i pagamenti al futuro. Quei soldi non li vuole proprio pagare. Penso che sin dall'inizio avesse pianificato la mossa seguente, dato che la realizza in poco più di 12 mesi. L'anno successivo infatti rivende a Francesco Milzetti, di cui parleremo tra poco, tutta la tenuta di Mirabello e di quella di Raveda, i terreni a nord della via Sandonino, in tutto 973 ettari. E li vende al prezzo di 922 mila lire bolognesi. Notate, aveva pagato in tutto 970 mila lire, ne rivende tre quarti a una cifra di poco inferiore. Grazie a un forte aumento del prezzo medio, che da 757 lire per ettaro sale a 947 lire per ettaro. Ma il capolavoro è ancora il pagamento. In casa ha un acconto di circa 16 mila lire e accolla al compratore, il Milzetti, tutti i debiti degli Aldovrandi che lui, Zucchini, si era assunto e tutto il pagamento che in futuro avrebbe dovuto corrispondere agli Aldovrandi. Così, in un sol colpo, si è liberato di tutti i debiti che aveva contratto e li rimangono 309 ettari che ha pagato solo 48 mila lire, che ha cioè pagato solo 155 lire per ettaro, meno di un quinto del prezzo che ha chiesto al Milzetti. È o non è un grande genio? O pescecane? Se guardiamo l'affare sulla mappa, il colpaccio realizzato dalla Zucchini è forse ancora più evidente. La tenuta di Mirabello e la parte a nord di quella di Ravida è venduta per 922 mila lire. La parte a sud che rimane a lui è acquistata per 42 mila lire. Un gran bell'affare, ma vedremo che non sempre tutte le ciambelle escono col buco. Ma non anticipiamo. Vediamo prima chi è il pollo, cioè, scusate, chi è il Milzetti. Francesco Milzetti era figlio del ricco conte faentino Nicola Milzetti. Questi nel 1792 aveva affidato all'architetto Giuseppe Pistocchi l'incarico di costruire un palazzo a Faenza, unificando le antiche case di famiglia che erano state danneggiate dal forte sisma del 1781. Ma il Pistocchi aveva appena iniziato la sistemazione degli interni quando nel 1796 venne arrestato e incarcerato a San Leo come Giacobino. Nel 1799 il conte Nicola morì. Li successe Francesco, ricco e ambizioso. Pur essendo di nobiltà papale, era entrato nell'armata francese. Si era distinto ed era divenuto colonnello della guardia d'onore del vicerè d'Italia. Era insinito del prestigioso titolo napoleonico di cavaliere della corona ferrea. L'ordine cavalleresco istituito da Napoleone nel regno d'Italia riservato solo a 30 alti dignitari del regno. L'anno stesso della morte del padre, Francesco incaricò Giovanni Antonio Antolini, uno dei più noti architetti del periodo neoclassico, di completare il palazzo di famiglia rimasto incompiuto. Fu un'impresa grandiosa che si protrasse dal 1802 al 1805. Le pitture e gli stucchi, attraverso raffinati riferimenti mitologici e storici, rimandano alla funzione specifica di ciascun ambiente e caratterizzano ogni sala come nucleo a sé stante, frutto di una progettazione tutta incentrata sull'unità delle arti. Il palazzo Milzetti rappresenta l'esito più significativo e completo del neoclassicismo faentino. Per l'esemplare integrazione tra architettura, decorazione e arredo, oggi è il Museo Nazionale del Neoclassicismo. Ricchissimo possidente e con una carriera militare prestigiosa. Continuamente in moto tra Bologna, dove si è stabilito, e Milano, dove presta servizio alla corte del vicere, nel maggio del 1805 Francesco sposa la diciassettenne bolognese Giacinta Marchetti degli Angelini, figlio di Marco Marchetti e di Caterina Marescotti, all'epoca il partito più ambito della città. Gli affari e le relazioni in ambito bolognese del conto in Milzetti erano quindi certamente notevoli. Fu forse per via dei legami della moglie con i Marescotti, gli Aldovrandi erano strettamente imparentati con i Marescotti, che l'attenzione di Francesco si fermò sulle tenute di Mirabello e Ravida, che lo Zucchini offriva in vendita. L'acquisto, come abbiamo detto, fu concluso. Torniamo per un momento all'Aldovrandi. Siamo nel 1806 e sono passati tre anni da quando ha venduto le sue tenute allo Zucchini. In questi tre anni ha incassato 77.000 lire all'anno, che equivalgono a 2,8 milioni di euro all'anno. Dall'anno seguente il pagamento scenderà a sole 32.000 lire all'anno, cioè a solo 1,2 milioni di euro all'anno. Aldovrandi è molto preoccupato di questo calo, per questo contatta il Milzetti e gli propone di rinunciare a 5 delle 13 rate che avrebbe dovuto incassare dopo il 1823, in cambio di un vitalizio e del pagamento di alcuni debitucci che nel frattempo ha contratto. Precisamente propone di rinunciare a 5 rate da 50.000 lire l'una da pagarsi in un futuro lontano tra il 1825 e il 1829, in cambio di un vitalizio di 4.000 lire all'anno e il pagamento di debiti per 30.000 lire. Tenuto conto dell'età dell'Aldovrandi, il Milzetti accetta e il seguito gli darà ragione. Verserà in tutto di fatto solo 98.000 lire prima della morte dell'Aldovrandi, per cancellarne 250.000. E l'Aldovrandi da parte sua è molto contento perché si libera ancora una volta dei creditori e innalza la sua rendita annua a 1,4 milioni di euro per tutta la vita. Saremmo tutti contenti di una rendita così. Ma all'Aldovrandi non basta ancora. Nel 1811 propone un nuovo scambio, questa volta allo Zucchini. Li cede due rate future che il Milzetti li dovrà pagare nel 1823 e nel 1824, in cambio del pagamento di debiti che lui nel frattempo aveva contratto e non pagato. Nel 1815 ripete di nuovo il giochetto. Vi risparmio il resto perché ormai l'andazzo è chiaro. Il 22 luglio del 1818 cede l'ultima rata che gli era rimasta del pagamento futuro. In 15 anni ha bruciato 250.000 lire di incassi futuri, cioè 9 milioni di euro. Se aveva le mani buccate prima di vendere la tenuta nel 1803, poi i buchi sono diventati delle finestre, delle finestre spalancate e dissolse il patrimonio che generazioni dei suoi avi avevano lentamente accumulato. Come lui, in modo simile, svanì in quegli anni una larga parte dell'antica aristocrazia terriera. Il conte Carlo Filippo Aldovrandi lasciò questa terra nel 1823. Per seguire il triste tramonto dell'Aldovrandi abbiamo abbandonato il nostro giovane rampante, il colonnello Milzetti. Come abbiamo visto era riuscito molto bene ad inserirsi nella nuova classe dominante che la rivoluzione aveva creato, ma era anche lui evidentemente un poco accorto gestore dei suoi beni. Infatti nel 1808 si trovò coinvolto, in qualità di fidigliussore, nel fallimento con bancarotta fraudolenta di un tale Ercole Gaspari, esattore delle imposte per conto del Regno d'Italia fondato da Napoleone nel 1805 con l'incoronazione nel Duomo di Monza. Il buco, lasciato dal Gaspari, era di tale entità che il reggio tesoro prese in garanzia del pagamento della fidigliussione le proprietà immobiliari del Milzetti, compreso il Palazzo di Faenza e la tenuta di Mirabello. Quest'ultima però era gravata dalle ipoteche poste dall'Aldovrandi e dallo Zucchini a garanzia del fatto che il Milzetti pagasse i debiti e i pagherò che si era assunto all'atto dell'acquisto. Il Milzetti si impegnò sul suo onore, l'onore di un colonnello della guardia, a liberare la tenuta dalle ipoteche. Ma l'Aldovrandi non ne voleva sapere neppure lo Zucchini. E il rifiuto dello Zucchini dice tutto di quest'uomo perché proprio lui era uno dei responsabili dell'entità del buco dei Gaspari che il Milzetti era chiamato a rifondere. Lo stato finanziario dei Gaspari era infatti positivo ma solo sulla carta perché alcuni debitori non lo pagavano e tra questi il principale debitore era proprio lo Zucchini che gli doveva ben 170.000 lire pari a 6 milioni di euro attuali. Il Milzetti voleva e doveva, vista la sua posizione di colonnello della guardia del vicere d'Italia, mantenere l'impegno preso con il reggio tesoro. Pertanto, per convincere lo Zucchini, si risolse a rivendergli la tenuta di Raveda. Vedete qui la copertina dell'atto che in due parole dice tutto. Retrovendita di Raveda in cambio della collazione allo Zucchini di canoni legati ancora da pagare e di debiti per il totale suo valore. E con l'obbligo dello Zucchini di far cancellare tutte le ipoteche gravanti su Mirabello. Anche qui lo Zucchini rivelò tutta la sua natura di Squalo. Le acquistò Raveda a due terzi del prezzo, a cui lui stesso l'aveva venduta al 179 anni prima, ma poi non mantenne l'impegno preso di cancellare le ipoteche. Forse fu per la guerra di Napoleone in Russia e le conseguenti difficoltà del Regno d'Italia. Fatto è che l'azione del reggio tesoro contro il Milzetti non si concluse prima della caduta di Napoleone e l'avvento nel 1814 del governo provvisorio di sua maestà l'imperatore d'Austria al posto del governo del Regno d'Italia filo francese. Nel 1814 la ricchissima moglie di Francesco, la contessa Giacinta Marchetti Milzetti, si intromise nella causa sostenendo che lei era la prima creditrice del marito, stante il contratto nunziale firmato nel 1805. Non vi pare strano che solo allora dopo sei anni se ricordasse di questo suo diritto, Gattacicovo. La contessa riuscì a convincere il governo a transare e invece delle 469 mila lire originariamente richieste, pagando solo 166 mila lire, annullò il debito del marito nei confronti del governo e fece tornare nelle mani della famiglia la tenuta di Mirabello. È molto probabile che questa soluzione sia stata favorita dal fatto che il governo non fosse più il governo del Regno d'Italia filo francese, ma il governo austriaco e che anni prima la contessa fosse stata nominata dall'imperatrice d'Austria, Dama della Croce Stellata, un titolo riservato alle duchesse e arciduchesse d'Austria e a pochissime dame straniere selezionatissime. Una prova certa di questa benevolenza la troviamo nella data della firma della convenzione tra il governo e la contessa. È il 4 luglio 1815, l'ultimo giorno in cui il governo austriaco poteva agire. In base agli accordi appena presi nel congresso di Vienna, dal giorno successivo il territorio bolognese, romagnolo e ferrarese tornò a far parte dello Stato Pontificio. E non è difficile immaginare che il governo del Papa non sarebbe stato altrettanto tenero con un conte papalino che nel 1796 aveva traduto il suo Papa per passare con Napoleone, il nemico del Papa. Il Milzetti rientrò così in pieno possesso della tenuta di Mirabello. Ma si rese però presto conto che gli risultava oltremodo gravoso. Il pagamento dei 4.500 scudi annui, pari a 900.000 euro, al signor Conte Aldovrandi, per pagare i quali gli è forza andare incontro a passività, con sommo dissesto dei propri affari, non essendo sufficiente la rendita della suddetta tenuta di Mirabello alla soddisfazione della predetta gravissima annualità. Così, nel 1818, la famiglia Milzetti-Marchetti decise di vendere la tenuta di Mirabello, compreso il palazzo al signor Felice Levi di Bologna. Il prezzo è stabilito in 68.000 scudi romani. Non stupitevi della valuta, siamo tornati nello Stato Pontificio, che corrisponde al 78% di quanto il tesoro del Regno d'Italia aveva valutato la tenuta di Mirabello nel 1812. La ragione di questa significativa perdita di valore è spiegata nello stesso atto. La tenuta presentemente produce limitatissime rendite, essendo bisognosa di buonifici, scritto così, al terreno, che trovasi in stato infelicissimo, segnatamente per essere stato con poca cura coltivato e mantenuto. In effetti dall'epoca del cardinale, cioè da più di 50 anni, nessuno ha più considerato la tenuta come un bene produttivo, ma tutti l'hanno utilizzata come un mezzo per acquisire rapidamente liquidità. Nobili e speculatori erano tutti uguali da questo punto di vista. Unito piccolo segno di vitalità agricola. I maceri da canapa, realizzati nel riazzo del Reno, passano da 4 a 8, come risulta confrontando l'atto di vendita del 1803 degli Aldovrandi allo Zucchini con quello del 1820 di cui parleremo tra poco di Levi a Morardetto. E non poteva non essere così. All'inizio dell'Ottocento la produzione della canapa era stata spinta dalla forte richiesta di vele e cordami della marina di Bonaparte che tentava il blocco navale dell'Inghilterra. Le superfici coltivate a canapa nel bolognese passarono così da 3.000 a 5.000 ettari. Anche il signor Levi era un finanziere, per nulla interessato alla produzione agricola. Già due anni dopo, nel 1820, c'è detta la tenuta di Mirabello alla ditta Ignazio Morardè di Milano. O meglio, alla ditta Ignazio Morardè, come allora si diceva. Comprano Vincenzo e Pietro Morardè di Milano, figli di Ignazio, a cui la ditta è intestata. Come mai comprano dei milanesi? Sono anche loro dei finanzieri con nessun interesse agricolo? Per capirlo dovremmo andare lontano, molto lontano. Ma prima dobbiamo concludere la storia della vendita dell'Aldovrande allo Zucchini. Sì, perché Levi aveva venduto dichiarando che la proprietà era libera da ipotecchia. Ma ciò non era vero. Dopo l'acquisto i Morardè impiegano dieci anni per liberare la tenuta da tutte le ipoteche che la avviluppavano. Ancora nel 1830 lo Zucchini costrinse il Morardè a pagargli 14.000 scudi per chiudere l'ultima ipoteca. Si concluse così, allora e solo allora, dopo ben 27 anni, l'ultimo pendizio finanziario della vendita degli Aldovrandi nel 1803. Per concludere questo argomento posizioniamo gli ultimi eventi sulla linea del tempo. Abbiamo già posizionato la vendita delle tenute degli Aldovrandi nel 1803. Aggiungiamo ora il passaggio di proprietà a Cavalier Bilzetti nel 1806 e Morardè nel 1820. Prima di parlare dei Morardè dobbiamo toccare un argomento che non abbiamo sinora considerato, quali fossero le produzioni che si effettuavano nella nostra zona. E' tempo di farlo, perché solo così è possibile comprendere perché dei milanesi, quali erano i Morardè, abbiano comprato l'impresa. Ovviamente una parte rilevante delle culture erano destinati all'autosossistenza delle famiglie contadine. Non sono queste le culture che ci interessano. Dobbiamo esaminare le altre, le altre culture, quelle in cui prodotto è destinata alla vendita. Sono infatti queste culture che suscitano l'interesse per i terreni agricoli ricavati dalla bonifica, che attirano i capitali che essa richiede e che rendono infine questi terreni un oggetto di mercato. Da questo punto di vista le culture dominanti erano solo due. La prima è la cultura della canapa, che ebbe un forte aumento in parallelo all'espansione della navigazione a vela per la produzione di vele e cordane. La seconda è la bacchicoltura, la cultura del bacco da seta, che alimentava la principale e più reddittizia industria bolognese, la produzione di veli di seta. Ne vediamo l'impiego negli abiti delle dame in questo affresco del Salone dei Mesi del Palazzo Schifanoia a Ferrara, realizzato verso il 1470 da Francesco del Cossa. Poi, in questo ritratto della madre, realizzato da Guidoreni, il grande pittore di Cento, verso il 1610. E ancora in questo ritratto della Contessa Marescotti, d'Antonio Crescinbeni del 1778. Notate la grande estensione temporale. Per più di 300 anni, dalla fine del 400 all'inizio dell'800, l'abito delle grandi dame utilizza il velo di seta prodotto a Bologna. E la sua produzione richiedeva i bacchi da seta. Fu la bacchicoltura a produrre rilevanti cambiamenti nell'assetto dei nostri territori e del loro uso, ed è per questo che dobbiamo ora dedicarle un'attenzione particolare. La cultura del bacco nasce in Cina, verso il 3200 a.C. ed è strettamente legata alla presenza dei gelsi bianchi, delle cui foglie il bacco si nutre. Il gelso, come il bacco, è originario delle grandi pianure alluvionali della Cina. È una pianta molto robusta, capace di vivere in ogni tipo di terreno, ma che si sviluppa più rigogliosa su terreni umidi, come quelli in cui è nata. I cinesi stabilirono presto un commercio molto redditizio della seta con i paesi limitrofi, ma mantennero gelosamente segreto il modo di produrla. Nell'antica Persia si faceva largo uso di seta cinese. Quando Dario si arresa ad Alessandro Magno, siamo nel 331 a.C., era vestito con abiti di seta talmente splendidi da indurre il vincitore a richiedere nel bottino di guerra tonnellate di questa preziosissima stoffa. Fu così che nel III secolo a.C. la seta giunse in Grecia e nel I secolo a Roma. Ce lo mostra questa fresco di donna danzante con un abito di seta trovato in una villa di Pompei. Plinio scrive che la seta viene prodotta sugli alberi nel paese dei Seri, da cui il nostro aggettivo serico. Questo passo conferma l'originaria usanza di far vivere i bachi direttamente sui gelsi, come mostra questa immagine cinese. Il commercio si sviluppava lungo la famosa Via della Seta, che attraverso i deserti dell'Asia centrale arrivava in Persia, odierno Iran. Da qui, passando per Palmira in Siria, raggiungeva il Mediterraneo e quindi Roma. Fino al 550 d.C. i tessuti di seta non erano prodotti in Europa, ma vi giungevano per questa via. Ma attorno a quest'epoca una tradizione racconta che l'imperatore romano Giustiniano abbia inviato in Cina due monici, i quali, a rischio della vita, rubarono semi di gelso bianco e uova di bachi da seta e li portarono segretamente a Costantinopoli, mettendo così fine al monopolio cinese. Costantinopoli fu quindi il primo significativo centro di produzione in Europa, anche se larga parte del filato veniva ancora importato. La seta era una delle merci più importanti dell'economia bizantina ed era usato dallo Stato sia come mezzo di pagamento sia di diplomazia. Tra il 600 e l'800 i bizantini portarono il baco da seta, i gelsi e la produzione della seta, in Calabria, un loro dominio. E prima del 1000 il baco, grazie agli arabi, raggiunse la Sicilia e l'Andalusia. Dal 1000 la produzione inizia a Lucca, che innova la decorazione dei panni di seta con tessuti rossi con disegni di animali esotici, grifoni, leoni e aquila. E diviene famosa per la tecnica del battiloro, foglie d'oro battuto su una membrana di budella di bue, poi filata su un grosso filo. Lucca acquisisce così rapidamente l'egemonia nel mercato della seta, raggiungendo l'apice del successo tra il 1200 e il 1400. La chiave del successo non fu solo la qualità dei suoi tessuti, ma vi contribuirono altri due fatti. Primo, gli umidi terreni della valle dell'Arno erano più adatti alla coltivazione del gelso degli assolati campi della Sicilia. Secondo, una geniale invenzione lucchese, il mulino da seta. Ce ne parla questo clip, che come quelli che seguiranno, ho tratto da un bel video realizzato dal Museo del Patrimonio Industriale di Bologna per la Festa Internazionale della Storia. Il baco da seta, detto anche Bombix Mori, inizia ad essere allevato anche in Europa e nascono così dei centri di produzione serica in Italia. Tra questi Lucca in Toscana, dove per la prima volta viene meccanizzata una delle fasi di lavorazione della seta, la cosiddetta torcitura del filo. Il filo di seta che si ricava dal bozzolo del baco è estremamente delicato e basta un non nulla per spezzarlo. Così com'è, non potrebbe essere tessuto. È necessario prima irrobustirlo unendo più fili insieme, circa una decina, e poi torcendoli più volte. È questa l'operazione che viene riprodotta meccanicamente grazie al filatoio rotondo lucchese. Questa macchina, inventata intorno alla metà del 1200, è grande quanto una stanza, a forma rotonda ed è movimentata manualmente, di solito da bambini che per la loro esile costituzione riescono ad entrare tra i ingranaggi per spingerla. La torcitura del filo non è un'invenzione lucchese. Era praticata da sempre, ma a mano, prima con Fusi e poi con Arcolai. I concorrenti di Lucca, Bisanzio, Calabria e Sicilia torcevano il filo di seta ancora così. Ma il mulino lucchese fa il lavoro di 10-20 donne che lavorano con i mezzi tradizionali e pertanto i filati di Lucca costano molto meno a parità di qualità di quelli dei concorrenti. Fu così che dal 1250 Lucca dominò in contrastati il mercato della seta, con filati più belli e costi inferiori a parità di qualità. Il segreto di questa macchina fu gelosamente costudito e non trapelò, ma a mutare questo clima di prosperità arrivarono le prime lotte intestine, fra la ricca classe di mercanti e quella più povera degli artigiani e del popolo. A trarne vantaggio furono le città rivali, soprattutto Pisa, che nel 1314 conquistò Lucca e determinò l'inizio del declino del commercio e della produzione serica in città, perché i commercianti e gli artigiani scapparono e cercarono la salvezza a Bologna, portando con loro i segreti della lavorazione che avevano costudito gelosamente. La macchina lucchese arriva a Bologna e qui viene successivamente modificata con l'inserimento di una ruota idraulica che consente di meccanizzare completamente la torcitura del filo. Nascono così i primi mulini da seta alla bolognese. L'introduzione della ruota modifica notevolmente l'organizzazione del lavoro. Aumenta la produzione di filati. La macchina ora occupa più piani di un edificio e riesce a lavorare contemporaneamente in migliaia di fili. Si riducono i tempi di produzione. Aumenta la qualità del prodotto. Il filo ritorto meccanicamente non presenta le imperfezioni dovute al movimento delle mani, a volte non costante. Il centro del lavoro si sposta dall'uomo alla macchina. L'uomo deve adeguarsi quindi ai nuovi ritmi lavorativi dettati dalle macchine. Aumentano le ore lavorative. Si lavora dalle 10 alle 12 ore al giorno. Il mulino oggi è considerato dagli storici come la macchina più avanzata dal punto di vista tecnologico prima della rivoluzione industriale e come anticipatore del sistema di fabbrica sviluppato poi in Inghilterra. Tutto questo è reso possibile grazie alla presenza in città di un complesso sistema idraulico artificiale che fornisce energia alle macchine e consente un trasporto efficiente delle merci all'estero. Nel 1176 il comune di Bologna realizza una chiusa sul torrente Savena in località San Ruffillo per deviarne l'acqua e portarla in città. Le acque del canale di Savena sono inizialmente utilizzate per riempire il fossato orientale della seconda cerchia muraria. Successivamente sono impiegate nell'industria della tintura dei panni e nella lavorazione del cuoio, della lana e della carta. Alla fine del XII secolo viene costruita anche la seconda chiusa a Casalecchio sul fiume Reno. A realizzarla è un gruppo di famiglie nobiliari proprietari di mulini note come i ramisani. Solo nel 1208 il comune acquista l'uso dell'acqua del canale di Rino utilizzata prevalentemente come fonte di energia per muovere le ruote idrauliche dei mulini da grano e successivamente dei mulini da seta. Dopo aver attraversato quasi tutta la città il canale di Reno piega verso nord a formare il canale delle muline. Qui a partire dal 400 si concentrano i 15 grandi mulini da grano della città. Il funzionamento del mulino da grano ha le caratteristiche del sistema tecnico medievale. Una grande ruota a pale piane è posta direttamente sul canale e attraverso un sistema di trasmissione del movimento a pioli e a gabbia consente la rotazione di una pesante macina in pietra. Il grano versato nella tramoggia viene schiacciato e trasformato in farina poi raccolta in sacchi sotto la macina. A Bologna questi antichi impianti macinano per il far bisogno della città circa 150.000 quintali di frumento ogni anno. I mulini da seta invece sono collocati nell'area precedente alle muline tra il canale di Reno e le mura. Sono centinaie e posti anche a notevole distanza dal canale principale. Per alimentarli infatti si utilizzavano delle condutture sotterranee dette chiaviche che sfruttando la pendenza del terreno portano l'acqua del canale di Reno alle cantine degli edifici della zona. Le piccole ruote a cassetti che muovono i mulini da seta sono quindi situate al di sotto del livello del terreno nelle cantine e risultano così invisibili dall'esterno. Questo ha consentito per molto tempo di tenere nascosta la tecnologia dei mulini da seta garantendo alla città il primato nella produzione serica. Ma l'acqua costituisce per la città anche una preziosa via di comunicazione. L'acqua dei canali che scorre in città viene infatti è raccolta al di fuori delle mura in un canale denominato Navile proprio perché è l'unico canale navigabile di Bologna. Il Navile lungo 36 chilometri collega Bologna a Malalbergo. Da qui si attraversano le cosiddette valli si raggiunge Ferrara e seguendo un tratto del Po e altri canali interni si arriva Venezia importantissimo porto da cui merci e passeggeri possono raggiungere qualsiasi destinazione. Forse ricorderete che del Navile e della sua importanza abbiamo parlato nella terza serata. Ma torniamo alla seta e vediamo in maggiore dettaglio come era organizzata la produzione. La lavorazione della seta che prevede diverse fasi è tutta concentrata all'interno delle mura cittadine. L'unica attività esterna è l'allevamento del baco che viene svolto nelle campagne intorno alla città. I bozzoli sono venduti al pavaglione sotto il portico dell'archiginasio nell'attuale piazza Galvani ad operatori economici autorizzati. Sono i mercanti da seta e i cosiddetti calderiani arbitranti. Il termine caldierano deriva da caldiere ovvero la grande vasca riempita di acqua calda che viene utilizzata per la cosiddetta trattura che costituisce la prima fase di lavorazione della seta. I bozzoli sono immersi nelle caldiere in modo che l'acqua calda faccia sciogliere la sericina che li rende solidi e sia possibile estrarne il filo che poi viene raccolto su apposite strutture a forma di palelepipedo dette aspi o naspi. Il passaggio successivo è la torcitura del filo che viene svolta all'interno dei mulini da seta. Se per la trattura vengono impiegate maestranze specializzate il lavoro della torcitura viene svolto dalla macchina. La tecnologia del mulino da seta viene perfezionata a Bologna nel corso del XVI e del XVII secolo. I mulini hanno la forma di un cilindro, possono arrivare a 12-16 metri di altezza e occupano più piani di un edificio. Le case che ospitano i mulini presentano due zone ben distinte, gli spazi abitativi e quelli produttivi. L'ambiente domestico è luminoso, riscaldato, confortevole mentre quello lavorativo è buio, freddo, umido e rumoroso. Lo spazio del lavoro è organizzato in senso verticale. Le macchine occupano tutti i piani. Nelle cantine le ruote idrauliche a cassette alimentate dalle chiaviche. Nei piani superiori i filatoi e torcitoi e nella soffitta l'incannatoio meccanico. Si lavora solo con luce artificiale di torce e candele per paura che la seta esposta al sole si rovini, ma soprattutto per evitare operazioni di spionaggio vista l'alta tecnologia del mulino sviluppato in città. Il problema è infatti sentito sia dagli imprenditori che dagli amministratori, i quali provvedono ad emettere a partire dal XVI secolo numerosi bandi che prevedono multe e gravi pene fino alla morte per scoraggiare lo spionaggio e impedire la fuoriuscita del know-how da Bologna. Dopo la torcitura il filo può essere finalmente tessuto. La tessitura del velo viene svolta a domicilio da migliaia di donne in tutta la città. Per standardizzare la lavorazione il mercanto provvede con proprio personale all'apparecchiatura del telaio nelle abitazioni. Quest'operazione prevede la fornitura di fili d'ordito e trama, licci e cassa di telaio con pettine. Alla donna non resta che muovere la bascula e lanciare la navetta a destra e a sinistra. I veli prodotti possono poi subire ulteriori lavorazioni come la tintura o l'ingrespatura che sono svolte in apposite botteghe. Tutte queste fasi di lavorazione avvengono dentro le mura con maestranze locali e sono controllate dirette dai mercanti imprenditori. Il mercante è il perno organizzativo del setificio. Egli ha due compiti fondamentali. Organizzare l'attività manifatturiera affidando le diverse lavorazioni a operatori e operatrici qualificati e occuparsi della spedizione e vendita dei prodotti sui mercati internazionali. La vendita dei veli, esportati per oltre il 90% fuori dalla città, prevede non solo l'individuazione delle modalità di trasporto, ma anche la gestione finanziaria e contrattuale su piazze straniere con cambi e monete differenti. Nonostante una legislazione molto precisa e punitiva, non sono pochi i casi documentati di vero e proprio spionaggio industriale delle tecnologie legate al mulino da seta. Così, già nel corso del XVII secolo, la tecnologia del mulino si diffonde al di fuori di Bologna, nel nord Italia, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e successivamente in Francia e in Inghilterra. L'esponenziale aumento della concorrenza, l'affermarsi di nuove manifatture e il mutato clima politico ed economico portano così, alla fine del XVIII secolo, al crollo irreversibile del setificio bolognese, innescando una grave crisi economica che segnerà l'inizio del XIX secolo. Con la perdita dell'esclusività della conoscenza della tecnologia del mulino da seta, Bologna perde il primato della produzione del velo di seta, che aveva detenuto per quattro secoli. Lo perde perché il suo punto debole, che sino ad allora la sua enorme superiorità tecnologica aveva occultato, la strangola. La sua capacità produttiva non può essere ulteriormente allargata. I mulini sono 119, l'acqua di Reno e Savena non può alimentarne di più. In Lombardia invece, nel Leccese, nel Comasco, dove la nuova tecnologia è arrivata, c'è abbondanza d'acqua e la produzione può essere espansa a dismisura. La forza, lavoro e capitali non mancano. E neppure la conoscenza manca, perché sin dalla metà del Quattrocento la seta è prodotta anche in Lombardia. L'Odovico Sforza, detto il Moro, ne promosse assiduamente la cultura, tanto da guadagnarsi il soprannome di Il Moro. Infatti il nome dialettale del gelso in Lombardo è Moron ed è una derivazione diretta dal suo nome latino Morus da Mora, che significa ritardo, per il suo tardivo risveglio primaverile rispetto agli altri alberi. Perdonatemi la divagazione linguistica. In Lombardia e in Piemonte, una volta appresa la tecnica del mulino, la produzione cresce rapidamente e Bologna è presto fuori gioco. Rivediamo questi eventi sulla linea del tempo. Il baco compare in Cina verso il 3000 a.C. I filati sono importati prima in Persia, dal 300 a.C. in Grecia, nel 100 arrivano a Roma, nel 550 Giustiniano riesce ad ottenere uova di baco e semi di gelso e inizia così la produzione in Occidente. Passa in Calabria attorno al 600, arriva in Sicilia verso l'800, dal 1000 compare a Lucca che diviene il centro più importante dell'Occidente tra il 1200 e il 1300. Dalla metà del 300 la bandiera passa a Bologna, che è la capitale incontrastata della seta, sino alla metà del 700. Pensate che a quell'epoca su 60.000 abitanti 24.000 erano impiegati nella lavorazione della seta e 119 mulini da seta erano attivi. Fu questo il punto più alto della tecnologia europea prima della rivoluzione industriale. Con l'800 Bologna scompare e si affermano la Lombardia e il Piemonte. Ma per fare la seta non bastano i mulini, occorrono i bacchi e i bacchi mangiano solo foglie di gelso. Il collo di bottiglia divengono così gli alberi. Per allargare la produzione occorrono più gelsi. Ma le capacità lombarde sono presto saturate e nel secondo decennio dell'800 si cercano risorse all'estero. E i terreni da poco bonificati della nostra zona sono molto attraenti. Sono terreni umidi, i più adatti per avere gelsi con chioma abbondante. Ed è per questo che nel 1820 Valentino e Pietro Morardè acquistano a Mirabello l'impresa che fu degli Aldovrandi. I due fratelli appartenevano all'ultima generazione di una facoltosa famiglia di commercianti e fabbricanti di seta trasferirsi da alcuni decenni a Milano dalla nativa Francia proprio per via della produzione della seta. Dopo la fine del blocco continentale imposto da Napoleone la domanda di seta era rapidamente cresciuta. Per i motivi che abbiamo appena visto la Lombardia si presenta molto ben attrezzata per cogliere questa opportunità così che molti imprenditori stranieri, svizzeri e francesi, vi furono attratti. Tra questi Morardè, una famiglia economicamente molto solida, come comprova il fatto che nel 1814 si fanno costruire un palazzo in contrada a San Giovanni alle quattro facce, in pieno centro di Milano, proprio a fianco del teatro alla Scala, da Pietro Pestagalli, un rinomato architetto della Milano-Napoleonica. I due fratelli dispongono di capitali rilevanti, tanto che nel 1824 Valentino Morardè fa parte del gruppo di commercianti e fabbricanti di seta di Milano che fondano la Compagnia di Milano, la prima compagnia di assicurazione creata nella città e ne diviene il direttore dal 1825 al 1850. Assieme al fratello Pietro apre una protobanca a Parma, la dita Ignazio Morardè, per l'appunto che acquista la tenuta di Mirabello. I due fratelli la comprano per produrvi gelsi e bacchi. I due non possono infatti essere separati. Dovremmo ora vedere cosa abbiano fatto i Morardè giunti a Mirabello con la loro mentalità lombarda e proto-industriale. Ma il tempo è scaduto e ho già abusato troppo della vostra pazienza. Ne riparleremo la prossima serata. Vi ricordo che questa e le precedenti puntate sono visibili nel sito del Museo di Mirabello al link che vedete. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima serata. Buonanotte.